Buongiorno e buonasera dal vostro Azzurito ragazzi e ragazze ed eccoci qua con un miracolo Un nuovo episodio di Tales of Zestiria Si spera di riprenderlo nel migliore dei modi, senza interruzioni, per portarlo a termine Sta durando fin troppo e adesso è il momento di portarlo veramente a conclusione Adesso siamo qui per affrontare, se vi ricordate, il missione Perché ultimamente sta facendo fin troppe fusa Eeeh, ha bisogno di coccole, ha sondi mazzate sulla capoccia Ed eccoci qua verso il missione Questa è una cosa che si può fare, non si può fare, non si può fare Non si può fare, non si può fare, non si può fare Perché stai dicendone che magari ha fatto la pupuna e la lettina e adesso toccano ripulirla? Ma lui non ha capito che saremo noi a sforcare la sua lestierina Noi gli farò neanche più le spazzolate sulla criniera Noi gli darò neanche più i bocconcini e neanche l'erba gatta Dovrà stare completamente a bocca asciutta E sputerà a palle di pelo a volontà E lo so sono un grandissimo stronzo e nel frattempo anche bello tosto questo A me quanto toglie Finalmente non fai più gradarsi eh E vai prendi tu la paletta e leva la merda Ma anche rima Forza sore non perdiamo tempo distruggiamolo e riportiamo la pace nel mondo Cioè ci sta un ripensamento? La Loli Stronzetta con un bel culo Adesso ci tocca affrontare anche lei Oh no sono stati intrappolati Oh no sono stati E vai Adesso siamo anche in minoranza numerica A quanto pare questa volta sono io il passivo No Lola Ah ma salvati in tempo Ancora da affrontarlo Ma quando cacchio finisce sta battaglia Un punto debole Compragli nuovi croccantini appena uscita della Friskis E' potentissimo E' potentissimo Oh no Che questa sia la fine per Sorei E' potentissimo E per quale motivo? La sta per uccidere Qualcuno lo fermi Ah no Ah no Lei è tutta tranquilla Dimenticavo rosso Non è una scena Ah si è fusa con lei Giustamente Non fai più la stronzetta Con un coltello Piantato sulla gola Eh eh abbiamo un ostaggio Che cosa? Si fa ammazzare dal padrone? Senza abita proprio Ah tu sei pure felice Però almeno gli altri tre Sono stati liberati Che cosa? Dobbiamo allearci con lui E' sicuramente Ah C'è un'occhio C'è un'occhio Ma N'è il N'è il L'amore Si Ma C'è un'occhio Ma Si Ma Vi Sass Sass C'è un'occhio Sass Ma 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 Ci vuole condurre al lato oscuro Sappiamo tutti che tanto il sole non accetterà mai Infatti Come anche di combattere? Non è ancora il momento Avevo fatto tutto questo casino per nulla Almeno si è ritirato Non c'è un'intera Non hai scopo Quindi ti senti con il Mauteras Quando sei riuscita con il suo corpo Ma non c'era il niente Ma non c'era il niente Non c'è un'intera Non mi sembrava che non mi sembrava. Ma in realtà non mi sembrava che non mi sembrava. Non mi sembrava che non mi sembrava. Questo? È un'esplice! Cosa che si tratta di un'esplice di Greenwood? Si, non mi sembrava che non mi sembrava. Ma in realtà... Si, se si tratta di un'esplice di un'esplice, ci sono funz Livingston? Lui mi sembra da ricordare dell'esplice. Ha detto che per per esempio, cheprovechiamo i su界i di un'esplice. Perché credo che non mi sembra di essere or漂亮i? Per esempio, non mi sembra fare mai destinato ai rifi ...e che non si tratta di più o meno di più che il mondo del Mawteras... ...i non si tratta di più o meno di più che non si tratta di più che il Heldolfe. Ma... ...dia non c'era il mio nome di Mawteras... ...dia trovare un'amore di Mavyn... ...Mavyn, signore? ... ...dia... ...dia che si tratta di Mawteras... Segui i passaggi, potremmo essere un'altra parte di un'altra parte del mondo! Ma come cosa vuoi trovare? Mi ha fatto un po' di me, ma per la gente che guarda i loro. ...Roglin... ...è sicuramente un'altra parte della Zaffgott Genia. Si! Ormai è diventato Lo zerbino di Edna Vabbè andiamo a incontrare questo vecchiaccio Di solito il sesto senso femminile funziona sempre Perché adesso è venuto il troll che vuole trollarmi E che cacchio Eppure ho affrontato questi cinghialotti del cacchio Vediamo cosa dobbiamo fare La soluzione migliore è proseguire verso l'Ogrin Io tengo in grande considerazione le parole di Laila A parte quando si mette a fare battutine Eh squallide Perché vuole fare concorrenza allo zoo La città della torre Mamma mia Dovamo fare tutto questo tragitto Che palle Eh raga Mi tocca farlo Cavolo che bella zona Grande ponte di Kano Oh no Edna Spruzza qualcosa Fuori da quei buchi Edna Sengo da piccola per queste cose Non parlare di buchi che spruzzano Eh beh Che s'ha fattuto di merda con il mese d'ottobre Mamma mia che attacco figo da parte di Laila Certo che Laila pure è gnocchetta Molto infuocata Eccolo qua il mostro Porca miseria Ma è un calamaro gigante Mi schizzerà tutto Un kraken Un mamma E vittoria fu Ma vabbè la figlia è stata una mezza schiappetta Ma dove siamo? Nel Texas Oh mamma Certo che bella sta zona nuova Ha sempre la lingua before Q Edna Sempre la parola giusta Nel momento giusto E' una stronza E non finirò mai di ripeterlo Che questo è il motivo per cui la amo Siamo arrivati finalmente Una camminata che non finiva mai Ancora con questo cavolo di elefanto Oh grazie Mick Leo per il frappello a frutta Scivola ma proprio con questo caldo torrenziale Siamo arrivati E cosa gli sta parlando? E cosa gli sta parlando? Canta storia Canta storia Canta storia? Tack Soreほど no tamadatta wake ka Conkai no yatswa Soremo arimas Omae erani Orega chikara o kassu Sorega Do you you Que lo da Sapparan... No, non. Lider, Mabie, per te le racconti. Oh, non, non. Ma te sono dei loro, per me, sono stati molto importanti. Per me, sarebbe la cosa che si tratta di un'inforza di un'inforza? Non, non, ma se. Ma, se, per un'escrizione, non mi potrebbe essere un'inforza. Non è possibile che non ci sia un'escalante. E non ci sia un'escalante. Ma non ci sia un'escalante. Hai detto che la ricetta di Daiji è un'escalante? Non è vero che non è vero. Cosa hai? Perchè, guardatevi un'escalante. Tutti il tutto. Non è vero, ragazzi. Almeno Laila è felice. E quindi che dovremmo fare adesso? Aspetta, vedo una stella sopra la sua testaccia. Il cantastore del tempo. C'è anche una scenetta da vedere. C'è un po' di più. C'è un po' di più. Perfetto ragazzi e ragazze, è questo punto di concludere questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Abbiamo potuto anche scoprire la vera identità di quel vecchiaccio. Se volete commentate. E si spera che Zestiria riprenderà nel migliore dei modi. Non voglio portarlo troppo sulle lunghe. Voglio terminarlo il prima possibile. Grazie ancora per tutto il vostro supporto e alla prossima. Ciao ciao!